Aaaaaah Ci sta tutto il video di Outlast Chiudi la porta Come scusa? Dai famo il video di Outlast che da parecchio che amo Che stai facendo? Ok, perfetto Dai famo il tuo video Allora, spegni la luce Spegniamo la luce E questo Ci serve una luce un po' più Un po' più Un po' più sexy Un po' più sexy Bella a tutti ragazzi, siamo quelli della porta accanto Siamo sul PS4 E siamo tornati su Outlast Sì, però io ho paura Io non ho paura URSA No, no, gioco io però No, no, fermo No, no, fermo Con questo corri Con R1 Con l'altro noi so Perché a sto giro non c'è macrostatina Eh sì, perché così mi sbrattavi tutto quanto per terra Oh Buono, buono Ok, io entri nell'armadietto In te l'armadietto Corri, corri Ok, di nuovo nell'armadietto Ah, perché ancora deve entrare Ah, ok Penso Provamoci No Dai, dai Non ho mai visto che succeda a 16 Ah, al massimo crepamo Corri Corri was Sare Ah Ho Ya Io fallo Il cuore Lo Bisogno Cosa Importa Questa è Andracừa Larmadietto Non uscirà Raga Rai Per Interaclijke Mi dite Quale è lo scopo del gioco Io ancora non ho capito trovare un'idea e uccidere il cinema io rimango tutta la notte in trama dietro sopravvivo se però si ma poi si muore perchè non è più cibo esattamente e non è mai stata cosa si scopre uscire dal dottore ma ci siamo entrati perchè modo uscito io non capisco perchè ci siamo entrati quello si prende e poi c'è il carico del video al trasse questo richiamo a voi scuola leggerna caso del gioco e c'è il senso questo posto ho una volta l'intelligente non si muove se non si muove hai visto quel mostro accompagnato pure dalla musica di sottofondo metti a alvasa notturna mi parevo l1 ok no no almeno non lo fai proprie r3 ok alzati come si fa alzati come si fa alzati prima di si è passato ma che sai come alzati no alzati non lo clicca il x alzati non si può aprire ahahah tu stai buono non si può aprire quindi domanda no e qua un uomo morto che bello qualche caso ma anche dei video non è un'altra cosa da una spettacola che non accende torna indietro non indietro che da te torna indietro l'ombra è fatta bene ma roma 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 c'è stato sotto per le scale le scale si attenzione nonostante la giornata di ma anche il professor salette la foto erano pd ma dove c'è la luce rimane se percorso si prima era chiuso porca puttana io sto sverda o se la stanno attendo dal muore a casa vostra io dico ma ma in 2 ma poco sinceramente come se ne ha detto in teoria in pratica la sappiamo ben deficiente che è entrato in una struttura un'ostacolo con un salto premix grazie questo penso questo stavo sicuramente a vero cazzo aspetta tua musica ok a web furbo lui che pure chi c'è ma non è lui e perciò che penso si vabbè ma stai giocando usare le tasse giocando cos'è ma comunque non lanciare giusto oddio mi sappiamo un po' che aprisco giocati che bello ma che figo un altro corpo vogliamo giocare o vogliamo alla fine coraggio oppure a scoprire genera città mi ha detto un'altra cosa con quello che si sa se sta scaricando la batteria un sacco nonostante subito ma non fa un c'è un'altra delle vie quindi poi anche spingare c'è una luce c'è una luce oh guarda il reloco ora ha fatto qualcosa sta compagno eh che caso c'è una lucetta che sa fa? Entra nell'armadietto Entra nell'armadietto Sì E ora riesci Oh caspita C'è pesciuto il tentativo Una batteria Guardate dietro C'era vuoto Oh aspetta No un po' fa niente Un salve No un salve Corri 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 la storia disattiva il coso stai spiegando cifre il batterio non abbia la batteria a qualsiasi si la prendi a batteria prendi a batteria non puoi disattivare cosa non ci si vede in cazzo ma ammazza che memoria che hai non lì sinistra corri corri sei ancora vivo attiva la visione notturna e corri si corri 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 cazzo quella visuale la dovete lasciare sempre perchè non ci sei un cazzo vabbè non sappiamo dove andiamo vaici le corsa si però a sto punto che cavolo dobbiamo fare? dobbiamo rimanere dentro no penso che appena se ne va devi continuare ad andare no che sarà l'altra sala si vada subito le scavata attiva pure l'altra pompa e batte e e ma di che c'è nessuno cor entramo in questo no mi direi da no ma che aspetta no il collocatore non lo non 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 e' vero perchè non so sicuro attivo me ci troviamo dietro o c'è un altro altro manco ecco stava aperto la porta mangiare buona e' da qua arriva stagliere ma chi ha la cosa in sé chiudi 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 corri salta 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 ma che stai a faa sto assaltando entrate io ho nato no non siamo morti chiudi 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 la porta aspettamolo frego chiudi la porta chiudi la porta quando sei uscito nooo vabbè mincio la mimetere che devo faa io lo seguo ok cattroia loco ok prima di roma di quello giusto chiudi chiudi non è che lì chiudi aspetta 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 non ho manco preso ok per tempo no ci sta un posto per nascondere vai 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 porca puttana no guarda te prego perché se ci apre porca puttana ma no no te prego viata nooo 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 ecco no no capri con l'accanto spero fossi stato io trovo un piede corte porco e cominciamo a meno tutti ok porca puttana ma che cazzo fa direi se e' mo' penso che stava la cosa da guardare c'è ad omori fa tutt'andietro che devo fa c'è ad omori fa tutt'andietro per tornare a cosa centrale si ma ne ha morti solo due e' mo' devo trovare cosa del gas e quale? l'azzo che sta qua eccolo ah oh guarda aspetta stai per l'elettricità e' mo' di mettere subito dentro no ma che ne attivado allora una batteria una batteria per me è una delle tante level per attivo no mo dobbiamo no mo scorgite porca vacca porca vacca no porca vacca no l'occhio di me ahahah 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 una delle peggio botte a stavolo corri 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 scusa corri 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 no scusa ti sei sfonnato la gamba più che altro corri 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 or che puttana mi sa che puoi salire scappa no entro nell'armadietto giusto bravo ma che faccia sei scaricata no porca troia non ora no no sta là oh piotta no 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 ma sei scaricata quello no che palle vabbè abbiamo capito che tu m'ho fa però più o meno comunque l'hiamo perso non è che quando la porta ha sbattato per te te serve riuso di moda riuso a calasmi ricordi senza continuare riuso a pato con il città si da 4 ok uscito perché e che ravi anche un po' no questa aspina a come si dubbio per attivare volatilato.it si si per chi chissi perchè non mi sei cura di mezzo la batteria più in realtà staglia 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 cazzo erano come se non c'è visto se non c'è visto ma non partiamo si parte dal presupposto che ci ha visto non c'è stato ma che vuoi amore non lo stai o lo stai va se non è così del cazzo e ma ho questo qua un po' dire il suo lavoro la porta sicuro mi sembra che è il giornalista non ho capito ma l'altro va di mettero dai ma dove sei andato se non lo vuoi diventare all'angolo porca manca no siamo blocati non corre per nulla dove stavo ok ok saltalo saltalo ok no 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 non penso ok porca puttana ma non ho capito così ma mamma santa mi sta pieno infarto chrisso voglio correre davanti dritto per dritto quando un punto dove manda via la cosa ma che non c'è qualcosa che non si apre capito c'è quello al centro lo sai perché senti i passi nell'acqua ma dai e mi chiede l'ho detto pure prima eh non fa una fila merda si mangia a sparire ok ok con i cori senti ma fa culo io vado qua no 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 ma non ce l'hai mai dai cazzo con fronte trova bene che ti dice quello qua tu stai andando l'arma detto di prima no ma che cazzo stavolta la cura se stanno se stanno se stanno vai ricarica ricarica vai vai ricarica ecco guarda la cura se stanno se stanno avrebbe fatto tutto il giro vai dai ok ok allora ragazzi uuuuuh sarà sta maffa sotto cioè e abbiamo fatto 20 minuti lo stesso pezzo che bello però ce l'abbiamo fatta abbiamo attivato l'interruttore abbiamo attivato l'interruttore almeno in teoria poi ora mi vado attivare i mutande in realtà secondo me è diventato anche detto ermacchia non so manco perché stavolta di cui io spero che l'abbiamo deciso per lei per voi tre persone che ci seguite 38 spero che non vi sia piace del video perché così non lo continuiamo lasciate un dislike un discorso un discorso un discorso un discorso non condividete no condividete condividete che ha portato condividete ma mettete uno mi piace ok bella bella a tutti